Allora io cerco di interpretare questo doppio ruolo che il professor Brambilla diceva ci ha chiesto di interpretare. Allora inizio dicendo questo, il tema delle pensioni continua a ormai più di vent'anni dalla prima riforma sulla Previdenza ad essere il tema all'ordine del giorno. È il tema alla ribalta, lo è nei talk show, lo è sulla stampa, lo è nel dibattito anche nel dibattito interno alla politica. E collegato alla ribalta del tema pensioni c'è anche quello della Previdenza complementare. Allora io ci tengo a ricordare qual è il livello della nostra iniziativa sulla Previdenza complementare. Noi siamo i soggetti che hanno costituito i fondi di Previdenza complementare negoziali, anche se qui parlano casse fondi, ma io personalmente rappresento i fondi negoziali e il legislatore che ci ha affidato un compito preciso, che ha affidato alle parti sociali un compito preciso di occuparsi della raccolta e della gestione del risparmio previdenziale dei lavoratori. La contrattazione ha interpretato questo compito ampliando le risorse dedicate al risparmio previdenziale, non limitandosi quindi alla destinazione del trattamento di fine rapporto, ma investendo quote importanti della contrattazione in questa direzione. Il fondo che io ho l'onore di presiedere, quello dei metalmeccanici, ha dedicato l'1,6% della retribuzione alla Previdenza complementare, non è poca cosa, e anche nella trattativa per il rinnovo contrattuale che è in corso in queste settimane con grande fatica, si sta discutendo di innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro per favorire l'adesione dei lavoratori al fondo di previdenza complementare. Gli organi di gestione sono quelli che pariteticamente e bilateralmente, e anche questo è un fatto che io vorrei sottolineare, si occupano di gestire questo risparmio preoccupandosi di restituire in conto capitale o attraverso l'erogazione della prestazione pensionistica ai soci al momento della cessazione del rapporto di lavoro e il loro risparmio. I soci chi sono? Sono le aziende, nel nostro caso le aziende metalmeccaniche, i lavoratori del settore metalmeccanico. Anche questo va ricordato perché un conto è parlare di un lavoratore ad alto reddito che ha varie occasioni e varie possibilità di costruirsi forme di risparmio finanziario. Un conto è parlare di un lavoratore, i nostri associati sono più di 400 mila, sia esso impiegato, operaio o quadro che probabilmente non ha altre forme di risparmio se non il fondo di previdenza complementare. Allora noi questo dobbiamo ricordarcelo sempre, dobbiamo ricordarcelo quando ci occupiamo della gestione finanziaria, dobbiamo ricordarcelo quando con il legislatore ci confrontiamo sulle conseguenze che le misure normative determinano rispetto alla propensione ad aderire ai fondi e rispetto alla disponibilità a dedicare quote del proprio reddito al risparmio previdenziale. Riguardo all'utilizzo di strumenti come quelli che sono stati presentati stamattina, la gestione finanziaria dei fondi negoziali è una gestione che ha avuto molti limiti, limiti in buona parte esogeni perché la legislazione fino a poco tempo fa ci costringeva in un perimetro di strumenti particolarmente preciso e in parte endogeni. Abbiamo avuto un atteggiamento che qualcuno chiama molto prudente, qualcuno definisce molto timoroso e qualcuno considera un atteggiamento determinato dalla necessità di non far correre rischi agli aderenti. Ma l'attualità e lo scenario impongono scelte diverse, ci impongono anche nella parte tradizionale della nostra gestione finanziaria scelte diverse. Il fondo che io rappresento martedì dovrebbe assumere le proprie deliberazioni riguardo alla nuova gestione finanziaria, abbiamo rivisto in modo significativo la nostra asset allocation per garantire la protezione del patrimonio e un obiettivo di rendimento che dia un senso al risparmio previdenziale per come lo vogliamo interpretare e quindi gestione attiva e diversificazione e io metto nel pacchetto non delle decisioni che prenderemo martedì ma di quelle che assumeremo successivamente anche l'attenzione all'economia reale. Attraverso quali prodotti? Attraverso prodotti capaci di mettersi al servizio della crescita economica in particolare del paese. Io ricordo che noi abbiamo questo tipo di necessità se vogliamo dare un valore vero alle nostre scelte di investimento nell'economia reale. So che può essere incomprensibile ma so che può essere anche comprensibile il nostro bisogno di trasmettere un messaggio di ritorno delle scelte che noi facciamo rispetto alle esigenze di coloro i quali rappresentiamo. Un ritorno io arrivo a dire anche di filiera. Il settore metalmeccanico è un settore molto ampio. Si può investire nell'economia del paese con una serie di attenzioni anche allo sviluppo delle imprese del settore, allo sviluppo dell'occupazione nel settore. E in questo le fabbriche prodotto io credo debbano avere questa consapevolezza e cioè che gli investitori istituzionali hanno la disponibilità, sono interessati e stanno ragionando ma si aspettano questo tipo di ritorno che è un ritorno evidentemente non solo finanziario ma anche legato a logiche di sviluppo, a logiche di ambiente e ai criteri ISG che devono permeare le nostre scelte di investimento sempre di più. Io su alcuni temi che sono quelli che ci hanno appassionati moltissimo e sono tornati anche stamattina credo che le risposte siano già in qualche modo abbozzate. La liquidabilità del patrimonio sicuramente è un tema, il nostro aderente può uscire in qualsiasi momento se perde il lavoro non arriverà necessariamente a 70 anni a chiedere la propria pensione complementare. Non abbiamo una gestione life cycle così come la maggior parte degli aderenti e quindi non possiamo nemmeno specializzare l'investimento sulla base di questo tipo di logiche. Però la diversificazione ci aiuta salvo catastrofi i nostri 410 mila aderenti non usciranno tutti nello stesso momento. Se dovessero uscire nello stesso momento i problemi sarebbero probabilmente altri che non la pensione complementare. Allora è auspicabile che non accada per tante ragioni. Il tema della valorizzazione della quota. Noi non possiamo permetterci di rendere disponibili i vantaggi solo agli aderenti che ci saranno quando il fondo al quale abbiamo aderito avrà esplicato tutto il suo positivo andamento e far pagare i costi agli aderenti che usciranno nei primi anni di vita del fondo. Anche qui stamattina sono state fatte alcune precisazioni. La logica del rendimento cedolare sicuramente è una risposta in questa direzione. Io non nascondo che noi abbiamo qualche difficoltà nell'approcciare un mercato che per noi è nuovo. Il 166 tutto sommato è una norma recente che è stata in gestazione per un lunghissimo periodo di tempo ma è arrivata tutto sommato poco tempo fa. Ci stiamo confrontando su questi temi e sicuramente io credo arriveremo a prendere delle decisioni. Con quali incentivi? E qui il rappresentante della politica non c'è. La legislazione non ci ha favoriti. La legislazione c'è stata profondamente avversa negli ultimi anni. Che che se ne dica? Io arrivo a dire usando un'immagine che ho visto ieri sera nell'ambito di un servizio televisivo che era sulla 7 nell'ambito del programma di martedì. Veniva intervistata un aderente a un fondo pensione che una volta tanto diceva sono contento del mio fondo. Mi dà ottimi risultati o molto di più dei miei colleghi che non hanno aderito al fondo. Ma il giornalista chiudeva dicendo sì ma se gli toglieranno i benefici fiscali sarà ancora così? Allora purtroppo anche quando troviamo il soggetto giusto per trasmettere un'immagine positiva aleggia il rischio, il dubbio, il sospetto e lo scenario nel quale ci muoviamo non ci aiuta a dare messaggi fortemente positivi. Quindi noi abbiamo bisogno invece di una legislazione che ci sostenga. Avversa è stata quella sul fisco e tardiva e generalista e sento dire stamattina da autorevoli colleghi anche a rischio di impossibilità di essere applicata quella sul credito d'imposta per gli investimenti nell'economia reale. Voci dirette raccolte al MEF mi dicono che quella dotazione finanziaria è assolutamente stabile e non è in discussione da qui a non si sa quando, cioè non è una forma di sostegno che verrà da nessuno messa in discussione ma se poi si manifesta difficilmente fruibile è un tipo di sostegno che non è la risposta che vogliamo e della quale abbiamo bisogno. Noi invece abbiamo bisogno di orientare e sostenere lo sviluppo, orientare e sostenere la buona governance sia sul versante finanziario sia sul versante ambientale sia producendo ricadute sulla società. Alcuni dei prodotti che abbiamo visto stamattina ci aiuterebbero a farlo, io dico soprattutto se è l'Italia, il paese e il mercato nel quale si investe, i fondi sono tanti, molti sono piccoli, hanno bisogno di lavorare insieme. Io lo dico in rappresentanza di un fondo che potrebbe essere meno interessato di altri a questo, abbiamo le dimensioni e la struttura per fare forse anche da soli, io credo che creeremo valore aggiunto se sapremo dialogare tra di noi e fare insieme questo percorso, in particolare per quanto riguarda i fondi negoziali caratterizzati da interessi fortemente comuni. Grazie. 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 Grazie.